Il preside Auricchia deve essere rimosso. Non è possibile che un preside che è a capo di una scuola, che è deputata a formare gli uomini e donne del futuro del nostro paese, faccia quello che ha fatto. Cos'è successo bro? Praticamente una guardaline ha avuto un infortunio, un incidente, mentre faceva la sua attività di guardaline, di arbitro. E lui cosa ha fatto sui social? Ha commentato dicendo che se fosse rimasta a casa a fare tagliatelle non sarebbe successo. Ma può un preside dire una cosa del genere? Assolutamente no, è il nostro formatore, quindi il preside deve essere rimosso, non si può permettere di fare questi commenti. Un consiglio? Rimani tu a casa invece di fare il preside.